ciao ragazzi oggi siamo di nuovo qui per fare quest'altro video è arrivato il pacco dall'inghilterra sono ora vediamo insieme facciamo questo unboxing apriamolo malencino eccoli sono i freni veramente fatta bene questo è quello di dietro questo invece il freno anteriore ditemi voi nelle impressioni come sono questi freni oppure lo scattino il rumore anche la chiusura questa dovrò togliere l'emergenza non sembrano così male ditemi voi sui commenti se vanno bene oppure no ciao ragazzi al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al mio canale è gratis